Ben trovati la TG della mobilità, il dia da oggi la settimana europea della mobilità, molti gli appuntamenti, domani dalle 9 alle 20 e 30 sarà pedonalizzata a Via del Corso, da Piazza Venezia a Largo Chigi, domenica dalle 9 alle 18 sarà chiusa il traffico, via Appia Antica, da Porta San Sebastiano alla Basilica di San Sebastiano. Ricordiamo che domani per l'intera giornata bus e metro Atax saranno gratuiti, intanto oggi è in corso lo sciopero del trasporto pubblico di 8 ore, la protesta terminerà alle 16 e 30, segnaliamo che è chiuso lo sportello per il rilascio dei permessi di sosta e ZTL di Roma Servizi per la mobilità in piazzale degli archivi, ulteriori aggiornamenti sul sito romamobilità.it.